E com'è conosciuto Silvio Berlusconi? Lo conobbi in una missione in Bielorussia. Lui andò lì per il problema che in Italia c'era per le adozioni. C'era una cena servita da Lukashenko, con le solite cose sfarzose, una russa maniera, il tavolone, mille portate, il concerto, la musica. Una ragazza particolarmente carina se stava servendo Berlusconi, che a un certo punto interruppe il discorso e disse visto che si parla di adozioni, posso adottare questa signorina qui? Che era la cameriera che lo stava servendo. Io parlo russo. Vidi che l'interprete gli tradusse letteralmente a Lukashenko questa cosa, il quale, privo di spirito di humor, aveva capito che lui veramente sa la portare via questa. Allora, come dire, dategliela subito, una roba del genere. Io mi affrettai a dire guardate, spiegategli a Lukashenko che sta scherzando, perché se no gliel'avrebbe... Ma lui l'avrebbe fatto subito.